La salma della dipendente del panificio Saremo un funerale dignitoso Cos'è una punizione? Da quanto tempo è arrivato? Da circa un'ora, ma dov'è il console? Sono io il console, molto lieta Lasci che le spieghi una cosa, mister Risorsi Umane Qui non siamo né in Oriente né in Occidente Le cose non funzionano come a casa sua Mi dispiace, questa non è una famiglia normale Il ragazzo vuole che sua nonna venga al funerale Ma abbiamo deviato di parecchio Mille chilometri per fare la cosa giusta